E' stato definito positivo l'incontro svolto ieri tra i componenti della CNA di Licata e il commissario straordinario del comune Dario Cartabellotta, il presidente locale della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa Piero Caico, la scorsa settimana aveva formalmente richiesto l'incontro con il commissario. Quest'ultimo, nel primo giorno utile, ha ricevuto il presidente della CNA, la vicepresidenza, nonché i membri del direttivo dell'associazione. Diversi gli argomenti posti come temi di discussione, tra i quali il rischio di perdere il finanziamento sull'area polifunzionale, vicenda seguita con dedizione interesse dalla CNA sin dall'inizio. Il presidente Caico, in merito a questa vicenda, ha invitato infatti il commissario straordinario a rivedere tutta la corrispondenza intercorsa tra l'associazione e il dirigente preposto al progetto. Si è discusso poi della problematica degli oneri di urbanizzazione, nei quali gravano fortemente sul settore edile, si è affrontato anche il problema delle aliquote Imo sui beni immobili strumentali, le quali gravano fortemente sui bilanci delle imprese locali. Proprio su questo fronte, la CNA ha chiesto al commissario di attenzionare tale aspetto al fine di non gravare ancora di più sulle imprese già provate dall'attuale crisi. Ultimo ma non meno importante punto trattato è quello relativo al crollo del ponte di Ravanusa, che ha dato un duro colpo al settore turistico alberghiero e su tutto l'indotto artigianale di Licata. Il commissario ha ascoltato con interesse i temi portati sul tavolo dalla CNA e ha manifestato sensibilità e disponibilità sulle tematiche affrontate.